Uomo, sei capace di essere giusto. È una donna a chiedertelo. Dimmi, chi ti ha dato la potestà sovrana di opprimere il mio sesso? Chi ti ha dato la tua forza, i tuoi talenti? Osserva il creatore nella sua saggezza. Contempla la natura in tutta la sua grandezza e citami se ne ha il coraggio. Un solo esempio di questo dominio tirannico. Ripensa agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta insomma uno sguardo d'insieme su tutte le modificazioni della materia organizzata e arrenditi all'evidenza. Cerca, fruga, tenta pure se ci riesci di separare i sessi nell'ordine della natura. Ovunque li troverai uniti, ovunque essi cooperano in armoniosa unità a questo capolavoro immortale. Grazie per la visione!